Il mio sport è il pentadon Da quest'anno ho cominciato a far parte dell'SS Lazio e dopo un po' di campestre ho cominciato a fare anche le gare su pista Ho fatto il minimo in una gara assoluta della regione Lazio Una gara in cui sono stata tirata da ragazze più grandi E quindi è stata una grande soddisfazione di arrivare prima e addirittura fare anche il minimo per i mondiali I mondiali faccio il 1500, spero di fare il mio record anche perché non ho molti altri tempi quindi credo di potercela fare Devo dire che le altre ragazze sono molto forti quindi non punto comunque a vincere ma innanzitutto a divertirmi sicuramente perché i mondiali sono una grandissima esperienza Seguici sul sito di Correre Ciao Grazie